ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a mark morse mark e morse cos'è una serie tv degli anni 80 no è il nome di un nuovo brand emergente italiano che propone la loro prima opera è proprio il caso di dire opera nel mercato degli orologi diver come al solito il primo esemplare di un micro brand è solitamente un diver perché perché è l'orologio che più è appetibile dal mercato e come vedremo poi loro hanno voluto con la loro prima opera cercare di fare un qualcosa che possa piacere alla maggior parte delle persone alla maggior parte degli appassionati non ci sono lanciati in design particolarmente azzardati diciamo un diver che piace a tutti con l'aspetto che piace a tutti c'è poco da dire ma come sapete quando porto un micro brand un brand emergente o anche un brand famoso ma nuovo cerco di dare un minimo di infarinatura sull'azienda su chi c'è dietro come sapete a me piace anche un po sfrucugliare che è che realizza gli orologi in questo caso ci troviamo di fronte ad un'azienda italiana nata recentemente agli albori agli inizi del 2024 che è geolocalizzata incominciamo a figurarci dove nel veneto nel polesine al delta del po insomma con la zona del veneto che sfocia sul mare siamo lì le persone che hanno messo su questa azienda sono tre si chiamano marchesini marchiori e moretto tutte e tre con la m tenetelo bene presente e infatti il nome del marchio mark e mores va a sintetizzare i tre cognomi quei due che iniziano con la mar e mark e quello che inizia con more e mores mark e mores ecco spiegato la simpatica nascita del nome del brand allo stesso modo il logo è rappresentato dalle 3m che poi vengono ruotate e si trasformano nei tre petali stilizzati che possono sembrare 3m stilizzate come vedete c'è tutto uno storytelling dietro anche al nome e al logo che insomma fa sempre bene ricordare agli amici appassionati cosa come funziona mark e mores funziona che loro prototipano il loro orologio hanno prototipato questo primo orologio direttamente nella loro sede tramite stampa 3d hanno fatto tutta questa prototipazione che è durata un anno fino a raggiungere dopo le ore di lavoro la forma di cassa di quadrante insomma quello che volevano proporre al pubblico dopodiché si sono affidati di un'azienda italiana che ha sede anche in svizzera infatti loro oggi è marchiato swiss made per realizzare tramite questa private label l'orologio l'orologio che ci giunge a noi infatti è marchiato swiss made perché controllo di qualità assemblaggio procedure di lavoro metodo di lavoro insomma tutte quelle certificazioni necessarie a raggiungere lo swiss made sono fatte in loco l'hardware invece poi ordinato viene fornito dall'oriente come è logico che sia sotto una certa fascia di prezzo diciamo sotto i 2000 2005 addirittura vedrete che casse bracciali sono sempre fatti in cina quasi sempre non esageriamo però è così anche per gruppi anche per marchi famosi è non è che la cina è il veleno ordini paghi ti fanno le cose fatte bene ora detto questo i tre i tre ragazzi sono tra cui uno di questi sembra il moretto è un designer di auto della motor valle modenese che quindi ha lavorato con marchi famosi della dell'automobilismo di lusso diciamo a questo punto l'orologio mi è stato messo a disposizione dall'amico giacomo titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale e da poco come avrete visto il concessionario del marchio quindi quando l'abbiamo mostrato in un video nel negozio ho subito percepito una buona qualità ho detto fammi fare una piccola panoramica di questo orologino e l'ho preso ho scelto la versione blu purtroppo ci sono tre colorazioni una nera ghiera nera quadrante nero blu quadrante blu ghiera blu e ce n'è una che color panna con la ghiera color caffè che secondo l'amico giacomo quello che è più bello secondo me è meglio il blu o il nero e ho portato il blu per non portare sempre il nero dai o blu o nero io vado sempre su questi colori qua però insomma anche quello quello lì dice l'amico giacomo che è il più bello di tutti è quello lì e sta voi decidete voi vedrete voi no ragazzi adesso l'orologio del giorno è questo bellissimo rolex yacht master 40 mm quadrante blu ghiera in platino calibro 32 35 scintillante e ballerinante perché fa ballare la fresca come si vuol dire non so cosa significhi ma lo dicono tutti su internet e io mi adeguo ora detto questo giriamo la camera diamo lo sguardello a questo simpatico mark and morse opera viva il nome ecco non detto opera viva cosa significa opera viva è il nome dell'orologio e opera viva cos'è niente po po di meno che la parte inferiore dello scaffo di una nave cioè quella parte che è sotto la linea di galleggiamento detta anche carena è quella l'opera morta è la parte superiore l'opera viva è quella inferiore quindi l'opera viva questo orologio va a rappresentare il mare le navi tutto quello che come vedete poi nella panoramica tutto quello che rappresenta il mare giriamo la camera diamo lo sguardo all'opera viva e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo la disquisizione andando a denunciare i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39.5 mm ingombro trasversale al polso 48.4 spessore 12.6 e interasse ansa da 20 mm la prima constatazione da fare è che in realtà la ghiera girevole misura 40 mm tondi tondi la misura inferiore riportata nelle specifiche viene infatti rilevata la cassa vera e propria ciò ci restituisce anche se di pochi decimi un orologio con l'aspetto tipico di quei segnatempo nei quali la rotondità apparente prevale sulla sinuosità del sottostante ovviamente ciò favorisce la presa e la rotazione della ghiera stessa che in questi casi può essere agevolmente impugnata ad ore 9 e un quarto una volta indossato verifica indispensabile per ogni orologio risulta apparire composto e ben proporzionato lo spessore di poco al di sopra dei 12 mm è da ritenersi congruo ai 300 metri di impermeabilità dichiarati e grazie anche ad un lag to lag non troppo contenuto riescono a spalmarsi lungo tutto il profilo della cassa insomma un orologio che risulta indossabile senza problemi da qualsiasi circonferenza di polso sia perché è da considerarsi sportivo sia perché non scompare nei casi di polsi più ingombranti come il mio a livello di design ci troviamo di fronte ad una cassa che mira a non stravolgere le forme classiche tradizionalmente facenti parte dell'orologeria industriale forme e misure ci riconducono ad un aspetto generale che intende ottenere il sicuro consenso della maggior parte degli appassionati nel design non vi è nulla di azzardato o di divisivo nonostante ciò è ben evidente che si tratti di un progetto realizzato in house senza ispirarsi fortemente a un qualcosa di già presente sul mercato ciò che caratterizza particolarmente la vista superiore è la lunghezza delle anse pur avendo infatti un lag to lag della media queste si slanciano alquanto al di fuori del corpo cassa contribuendo così a bene evidenziare le finiture superficiali che altrimenti rimarrebbero coperte dalla ghiera spiovente da questo punto di vista occorre rimarcare l'eccellente qualità della spazzolatura presente sia sul dorso che sul lato carrur una finitura opacizzante che però non sminuisce la sensazione di pregio che sia nell'osservarla a corredo troviamo due ampie smussature lucide una superiore classicamente riscontrabile nella maggior parte degli orologi ed una inferiore quest'ultima la ritengo particolarmente evidenziabile in quanto va ad addolcire il punto di congiunzione con la superficie inferiore andando ad eliminare quel fastidioso spigolo vivo che troppo spesso viene lasciato in vista ne guadagnano aspetto e comodità al polso ma non si può ignorare un altro dettaglio che ritengo importante ai fini di uno screening completo ossia la corona di carica il posizionamento a 2 e 4 non è certo una novità seiko docet e il suo scopo è quello sia di non interferire con il dorso della mano sia di mettersi maggiormente al riparo da eventuali urti e a tal proposito si nota subito l'assenza di qualsivoglia tipologia di spallette di protezione in luogo delle quali è presente uno scasso circolare che ha il compito di accogliere la parte terminale della corona nel momento in cui sarà completamente avvitata si troverà bloccata lateralmente sia dal cannotto filettato sia dallo scasso in negativo un'eccellente alternativa come protezione agli urti laterali a fare pandan con la corona c'è poi il fondello anch'esso avvitato alla cassa e dimensionato in modo da consentire una resistenza alla pressione corrispondente a quella che si trova a circa 300 metri di profondità sotto il livello del mare la solidità è ben rappresentata dalla scelta di optare per un fondello cieco in robusto acciaio inox e ben decorato superficialmente qui è presente un timone al cui interno troviamo la sagoma frontale di una nave con ben in evidenza la dicitura opera viva giusto al di sopra della carena apprezzabile lavorazione che personalmente avrei preferito più opaca in modo da ridurne la smaccata e vezzosa lucentezza si tratta comunque di una lavorazione a coniatura che ritengo di pregio sicuramente migliore di un fondello trasparente e a proposito di ciò andiamo a scoprire cosa fa muovere le lancette al di sotto troviamo la versione elabore del selite sv200 e qui ho scoperto che erroneamente a quanto pensassi con quel termine si intendono anche le versioni non decorate come in questo caso mantiene comunque alcune migliorie dei materiali vedi inca block e soprattutto rispetto alla versione base l'elaboré viene regolato su tre posizioni prima di essere incassato una rassicurante operazione che ci permette di avere maggiore fiducia nella precisione dell'orologio ovviamente stiamo parlando di un meccanismo svizzero largamente utilizzato e sul quale non occorre neppure soffermarsi più di tanto 28.800 alternanze orarie 26 rubini e circa 38 ore di riserva di carica ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al lato A partiamo dalla ghiera a 120 scatti unidirezionale con una manovrabilità piuttosto buona come già detto il grip è sempre presente la fluidità di rotazione appare in linea con le aspettative da segnalare che l'inserto blu è in ceramica mentre gli accenti in bianco hanno una resa visiva eccellente forse il font utilizzato è piuttosto comune e poco originale per contro c'è il triangolo ad ore 12 che mette in mostra un design originale ho accennato in apertura riguardo della sede dell'azienda in una zona legata al delta del po bene il marker nasce dall'unione dei due simboli delta maiuscolo e minuscolo che si uniscono si sovrappongono si allargano e si trasformano ruotando nel marker che vediamo sull'inserto se non bastasse la sua sagoma è interpretabile come sezione frontale di una nave mentre gli indici ad ore 12 diventano il bacino di carenaggio della nave stessa proprio quegli indici che mettendo in mostra una certa identità personale possono essere letti come una m stilizzata l'iniziale dei tre cognomi dei fondatori insomma tutto in questo orologio ruota attorno al concetto di opera viva di imbarcazione di ambiente marino più in generale e la conferma la sia nel momento in cui si va ad osservare la sagomatura delle sfere principali a prima vista si potrebbe definirle a matita in realtà vogliono rappresentare la chiglia di una nave vista dalla profondità marina e il lato positivo è che nulla di tutto questo va a compromettere la leggibilità in quanto il contrasto tra centi e la dimensione delle sfere stesse consentono di poter comodamente leggere l'orario da qualsiasi inclinazione abbiamo dunque compreso che a livello iconografico e funzionale il quadrante ha il suo senso di esistere in questa configurazione ma vi sono poi quei piccoli o grandi particolari estetici che mirano ad aumentare il gusto di osservarlo il fondo blu soleil ad esempio perfettamente in linea con la tonalità dell'inserto è responsabile della creazione di quei piacevoli riflessi a raggio di sole tipici di questa finitura oppure gli indici a bicchierino applicati in rilievo l'altridimensionalità che ne scaturisce fa il paio con quella creata dal rio inclinato che a sua volta presenta una particolare finitura goffrata color argento chiaro tutti elementi che elevano il pregio visivo del quadrante e che quando lo guardiamo senza badare all'orario una ultima considerazione sul posizionamento della finestra data tra ore 4 ed ore 5 questa è una soluzione che si sceglie quando si vogliono rispettare le direttive iso e fare in modo che l'indice ad ore 3 rimanga ben visibile la conseguenza è che ne guadagna la simmetria generale al colpo d'occhio ci appare quasi come fosse un no data anche perché il fondo del datario in ogni versione è realizzato con lo stesso punto di colore del quadrante lasciatemi poi spendere due parole per evidenziare il pregio del logo applicato ad ore 12 tre petali in acciaio lucido che riprendono la finitura dei bordi degli indici visti prima e che rappresentano le tre m stilizzate questo è l'unico dettaglio completamente metallico del quadrante il resto è ricoperto di super luminova bgw9 che in assenza di luce diventa assoluto protagonista restituendoci un quadrante perfettamente leggibile ogni accento necessario è ben visibile e una nota di merito va alla ghiera laddove i primi 20 minuti sono tutti in evidenza minuto per minuto cosa piuttosto rara da vedere a chiudere la disamina troviamo il bracciale elemento che a volte caratterizza fortemente un orologio quasi ad identificarlo esclusivamente per quel motivo non è questo il caso naturalmente si tratta di un design demo cristiano con la classica maglia tre segmenti singoli in stile oyster occorre aggiungere che la qualità è elevata ed è comodo al polso perne a vite per tenere le maglie in sede spazzolatura e lucidatura centrale a contrasto e misura che passa dai 20 millimetri del lanza ai 16 della clasp una rastremazione accentuata che è sempre apprezzata perlomeno dalla maggior parte degli appassionati anche la cianiera di qualità ben dimensionata e robusta mentre sa un po di già visto la scatoletta della clasp stessa che comunque presenta a scanso di equivoci il logo personalizzato dell'azienda sulla clip di sicurezza ultima nota finale non è presente né la regolazione rapida né alcuna prolunga per indumenti esterni tutto è in mano ai forellini e alla rimozione maglie possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali sul bracciale c'è ancora qualcosa da dire perché sì allora potrebbe essere anche uno dei punti deboli di questo orologio ma io personalmente voglio spezzare una lancia a favore della maglia centrale lucida che negli orologi anche se sono già come lo yacht master voglio dire ma al suo perché perché lo fa scintillare un pochino di più al polso no crea quel contrasto tra le maglie sul bracciale lo fa sembrare un po più vivo per contro c'è il rischio che se i graffi si possano vedere un pochino di più questo è il rischio ecco a proposito del bracciale volevo dire che siccome mi sono messo in contatto con i ragazzi per chiedere informazioni tra cui anche quelle sul calibro hanno in non hanno un programma c'è già disponibile a richiesta il bracciale completamente satinato quindi se voi lo volete potete scegliere con il bracciale a maglia centrale lucida o il bracciale tutto satinato che fa una figura differente io non so non so quale sceglierei voglio spezzare una lancia anche a favore della maglia lucida tanto bistrattata bisogna aprire un movimento a favore delle maglie lucide dai e poi la chiusura la chiusura con i forellini qua mi hanno detto che hanno voluto tenere non mettere la chiusura ingegnerizzata che probabilmente faranno su altri modelli successivi semplicemente perché volevano per il primo orologio tenere il prezzo più basso possibile 998 euro che poi non si capisce perché 999 non fallo no 998 forse perché 999 potrebbe sembrare molto da negozio bazar dove tutto è a 999 no per tenere il prezzo basso hanno deciso di fare i forellini che ciò non ci trovo niente di male alla fine forellini bene va bene così punti deboli dell'orologio allora io sinceramente ho fatto fatica a trovare punti deboli perché tutto funziona abbastanza alla perfezione sono rimasto un attimino sorpreso dal fatto che il calibro interno non sia decorato ma perché io sono sempre stato abituato che l'elaboré si presenta con le finiture con i perlage con il code de geneve con le viti azzurrate queste cose qua e invece in questo caso l'elaboré è completamente piatto diciamo senza lavorazione mi hanno detto che in svizzera considerano l'elaboré dal momento in cui parte con le tre regolazioni mi hanno detto questo e che poi tutto il resto è optional e su questo ci posso anche credere perché è veramente difficile riconoscere cioè non esistono solamente i quattro gradi standard elaboré top grade e cost esistono tutta una serie di personalizzazioni che per cui puoi avere l'elaboré con un tipo di inca block di ati shock o meno con una lavorazione differente cioè la finitura è una cosa a parte rispetto ai quattro gradi quindi se te le vai a incrociare praticamente puoi tirar fuori un calibro sellita che non è mai stato catalogato messo nero su bianco questo ci posso anche credere certo che non è una bella figura aprirlo e vederlo così poco decorato comunque è regolato su tre posizioni questo viene a vantaggio nostro nel senso che se è quasi sicuro poi l'errore capita sempre di avere un orologio preciso poi sellita 6200 e no workhorse come dicono niente da dire basta altri punti deboli non ho trovati se non forse il lollipop sulla sfera secondi che mi sembrava un po mi sembra un po piccolo un po sottodimensionato rispetto agli indici a bicchierino parire personale poi la data tra ore 4 ore 5 ormai un classico per quelli che vogliono rispettare le normative iso per cui devono mettere in mostra l'indice a ore 3 che non deve essere tagliato e sinceramente fa anche la sua bella figura perché il quadrante è simmetrico bello equilibrato poi il resto è proprio la qualità la qualità della realizzazione che mi ha sorpreso anche la prima volta che l'ho preso in mano come diceva cicciolina proprio tutto preciso curato cioè i finali che si attaccano alla cassa in maniera senza nemmeno un micron di gioco di lasco non c'è niente bella l'idea della corona incassata con quello scasso circolare che va a bloccare no perché lo sapete gli urti sono quelli laterali sono quelli che possono in generale problemi alla guarnizione un colpetto qua un colpetto la guarnizione poi cede una volta che c'è il canotto filettato che esce e c'è l'incasso della cassa che protegge ecco fatto che gli urti laterali vengono vengono resi innocui nonostante non ci siano le spallette di protezione le spallette sono una roba più invasiva grezza questi trucchi qua così miniaturizzati sono qualcosa di più raffinato bello poi il discorso del triangolo del sul sulla ghiera sul quale hanno anche ragionato belli gli indici am fatti am sul 12 poi il resto i bicchierini sono un pochino visti rivisti mentre le sfere sono originali con questa chiglia di nave vista dal basso mi piace o io ragazzi non so che dire il fondello ecco il fondello l'ho detto anche nel nel video troppo lucido è troppo lucido è un basso rilievo bello fatto bene che dà pregio all'orologio però se fosse stato tutto veramente opaco avrebbe reso quell'idea di tool watch di roba la uso e come va invece così lucido è un po meno è un po meno tutto quasi tutto positivo qualche qualche punticino negativo poi i punti negativi ci calcolavano particolarmente ragazzi perché mi piace essere chiaro perché se no uno può pensare no ma l'ha detto così in passato no l'ho detto l'ho detto ecco uno che gli capita in mano l'orologio poi mi dice però il dietro è lucido magari sera opaco l'ho detto poi ragazzi io mi sembra di aver detto tutto ai punti positivi e negativi ve li ho detti l'orologio equa 40 mm diciamo in linea generale è adatto a tutti proprio per chi vuole osare a buttarsi nei micro brand questo è da tenere in considerazione è da tenere in considerazione poco ma sicuro ottima leggibilità è bello al polso ragazzi gli ingredienti sono lì l'orologio è lì c'è l'amico giacomo che è concessionario ufficiale a questo punto quindi chiedete a lui anzi ci sta anche chiede 999 998 venga qualcosa meno che ne so io se fa gli sconti anche sui micro brand sicuramente può darsi va bene ragazzi sembra di aver detto tutto devo andare a vedere gattini su instagram e nel mentre pettino le bambole vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'abbiamo l'abbiamo Grazie a tutti.